Malgrado la crisi e il boom dei prezzi delle materie prime, avanza l'autostrada del sud-est e precisamente la tratta A18 tra i svincoli di Spica e Modica. Lo sostiene l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone che sui social ha scritto di un ottimo lavoro che continua senza intoppi, garantendo cantini in regole e posti di lavoro. Stiamo garantendo, ha affermato Falcone, pagamenti e commesse grazie al risanamento da noi attuato del Consorzio Autostrade Siciliane, un ex carrozzone che oggi porta frutti al territorio. Il sopralluogo di Falcone di ieri sul tratto autostradale, Siracusa Gele interessato dai lavori, gli ha permesso anche di dichiarare che si è giunti a uno sviluppo dell'opera pari ormai all'80% malgrado le tante difficoltà dovute ai rincari delle materie prime e delle preoccupazioni finanziarie delle aziende. Abbiamo rassicurato le imprese e i portatori di interesse del territorio, continua Falcone, sul futuro del cantiere tra Ispica e Pozzallo. I mezzi e le maestranze sono e resteranno regolarmente al lavoro per costruire una delle più importanti infrastrutture della Sicilia. Dal canto proprio il Consorzio Autostrade Siciliane, grazie al risanamento voluto dal governo Musumeci continua Falcone, è un ente finalmente capace di garantire la propria tenuta finanziaria e quella delle commesse che abbiamo avviato o riavviato dopo anni di stasi. I pagamenti ad aziende e fornitori procedono senza particolari criticità e nessun posto di lavoro è attualmente a rischio. Molto più scettico invece il sito specializzato Sicilia in Progress, che come Falcone si è recato nei cantieri proprio la scorsa settimana, notando un avanzamento dei lavori a rilento che potrebbe far slittare di qualche settimana l'inaugurazione prevista per fine anno. Molto c'è ancora da fare in contrada a Zappulla, dove la provinciale 86 attraversa in più punti l'asse autostradale, rendendo necessaria così la realizzazione di sottopassi e sovrappassi. In particolare si trovano in fase di esecuzione le strutture di un sottopasso e di un cavalcavia, dove l'autostrada è rispettivamente in rilevato o in una profonda trincea. Praticamente ultimati invece i lavori nella metà del tracciato più prossimo a Pozzallo, con la galleria già definita praticamente in ogni sua parte, camminamenti pedronali compresi, manca solo l'impiantistica. Il tratto infine autostradale da qui verso Modica per i primi tre chilometri è praticamente completo, compresa la pavimentazione e persino i guardrail.